Se il contenuto è il re, chi è la regina? È stato il titolo e l'interrogativo del meeting annuale di Namex a Roma, a cui hanno preso parte i rappresentanti del mondo delle telecomunicazioni a livello internazionale. E ha preso parte anche l'editore di Telemolise, Quintino Pallante, che gestisce anche Interfibra, una realtà in piena evoluzione, un incontro per capire qual è l'andamento del settore delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle tecnologie di connettività e banda larga del traffico IP. Pallante è intervenuto sul tema della connettività portando l'esperienza di Interfibra. L'idea era nata da un'esigenza, ci eravamo resi conto che il Molise aveva questa carenza di connettività a banda larga. Poi abbiamo in qualche modo sfruttato il nostro know-how perché la televisione locale, oggi siamo in qualche modo abituati a pensare a IPTV, a tutto che viaggia su filo, in realtà a IPTV locale, è un broadcaster. Che cos'è un broadcaster? È un'attività che viene svolta proprio da una serie di tralicci e di antenne sparse per tutta la regione, al che abbiamo pensato di sfruttare questo nostro know-how per mettere parallelamente a fianco altre antenne, che per noi è il tesoro invece la trasmissione dei dati. Questa cosa ha funzionato non solo ma grazie anche alla vicinanza dei telespettatori sulla televisione in qualche modo hanno apprezzato questa attività che facciamo con Interfibra e quindi hanno in qualche modo, diciamo proprio in maniera pratica, fatto l'abbonamento con Interfibra e quindi hanno a casa questo tipo di connettività. Noi abbiamo una cosa che gli altri non hanno, che è appunto questa vicinanza con il territorio e questo molte volte è un plus. Si è quindi parlato del traffico IP nel mondo, è stato detto l'80% del traffico Internet è fatto di video. Se andiamo a vedere i trend di crescita si va quasi a un raddoppio anno su anno e analizzando il tipo di traffico che vediamo appunto esplodere, i contenuti video e gli OTT raggiunti, quindi che sono i maggiori fornitori di questi contenuti chiaramente prevalgono su tutto il resto. Nel settore nostro le contraposizioni sono sempre relativi, c'è sempre un fondo di collaborazione perché qui bisogna stabilire se l'uno è più utile rispetto all'altro ma in realtà sono importanti tutte e due, quindi trasportare bene i dati con le reti e allo stesso tempo avere buon accesso ai contenuti altrimenti anche gli operatori non funzionerebbero bene. Namex che promuove il meeting ormai da anni ha realizzato un'infrastruttura per l'interscambio di traffico IP con la missione di fornire dei servizi che si traducano in maggiore opportunità per i suoi afferenti e più in generale per l'internet del centro-sud Italia e del Mediterraneo. Noi siamo un hub, è un po' come fanno gli aeroporti di Roma con le compagnie aeree, dobbiamo offrire i servizi giusti nel momento giusto e con i tempi giusti.